Allora, siamo sempre qui in zona Fornaci con il gestore dei bagni Olimpia, Enrico Schiapapietra, che gestisce questa attività dal 1968. Volevo fare alcune domande a lui per sapere che cosa si sta facendo per la prossima riapertura, se ci sono delle novità, tutto ciò che concerne le prossime riaperture per l'estate 2020. Tanto noi abbiamo cominciato a riallestire le spiagge, abbiamo cominciato con calma, con prudenza, con serietà, cercando di non fare errori perché l'epidemia non è finita e di conseguenza bisogna lavorare con assoluta prudenza. Però vogliamo riaprire le spiagge spiagge, confidiamo che questo possa succedere per fine maggio, primi di giugno e quindi stiamo terminando gli allestimenti. Attendiamo di conoscere, un po' come tutti quelli che lavorano nella somministrazione, in primis la data di riapertura e poi le regole del gioco, non abbiamo ancora la certezza di come saranno le distanze o quanto dovremmo rispettare. Certamente noi vorremmo aprire in sicurezza, non ci interessa fare la corsa a riaprire piuttosto che essere certi di poter dare un servizio sicuro a chi frequenterà le spiagge a quest'estate. Questo è il nostro obiettivo, stiamo lavorando per quello e abbiamo bisogno però, come dicevo prima, di avere delle certezze. Non si può organizzare un'impresa e un lavoro senza sapere come bisogna farlo. Questo credo che sia la cosa più importante. Noi siamo operatori turistici e intorno alla spiaggia, intorno alla balneazione, intorno al nostro settore ruota un po' la motivazione principale per venire in Liguria. Quindi il settore del turismo in generale, albergatori, bagni marini, campeggi, ristoranti, bar, seconde case e quant'altro ruota intorno alla motivazione della balneazione, come dicevo prima. Quindi sarà assolutamente necessario ed importante riattivare la possibilità di aprire per le spiagge sia quelle degli stabilimenti balneari che le spiagge libere, perché senza le spiagge, senza il mare rischiamo di fare un'estate improponibile. È assolutamente necessario trovare le modalità sicure che ci possano permettere di riattivare la motivazione principale per cui si viene in Liguria e speriamo che questo accada in tempi ragionevoli che dovrebbe essere come dicevo fine maggio, primi di giugno. Ok, benissimo. Grazie Enrico. Non ti do la mano perché non si può. Ti auguro ogni bene, ogni bella cosa per il prossimo futuro, per l'estate 2020. Buona fortuna. Ciao, grazie.